Ah, capito? Ah, Tommy! Tommy, puoi fare anche un pezzetto di applausi Mi devo vestir, mi devo vestir Stari tardissimo Mi devo vestir Dai, che è tardi, su Mi devo vestir Quanto manca? Quanto manca? Senta a sette Poi magari c'è pure che entrano a... Oggi lavoriamo alle 9 e quarta, 9 e 20 Però mi vuoi vestir Eh, non lo so Non lo so Quindi nel caso Guarda, io domattina so tuzzo Domattina parlo con mio cognome Che almeno... Buonasera Buonasera a lei, signore Si sta preparando? Io sono l'umile tecnico In cosa consiste il suo lavoro? Nel mandare le musichine durante lo spettacolo Le luci, effetti di luce E altro Mi fa vedere un po' dove... Dov'è il suo mondo Questa è la mia cabina di pilotaggio Adesso salgo a bordo del caccia L'F16 Ecco Qua ci sono tutti i cursori Ognuno di questi comanda uno o due riflettori Ah... Che sono già impostati Questi sono i master Qui invece abbiamo il mixer audio Per mandare le musiche di scena Perfetto E questo è quanto Qua ci sono dei dichiatori Con un altro amplificatore Per le casse posteriori Per il mostro del caccia